La civiltà dell'intus legere, ripartire dalla Magna Grecia a Crotone, l'associazione culturale Paideia, ha promosso una importante giornata di studio presso Parco Pitagora, momenti di confronto a più voci. L'uomo di oggi è stato detto, è ridotto il ruolo di consumatore, il vero Dio e il denaro, e l'attenzione all'accumulo fine a se stesso ha creato una nevrosi senza razio. È necessario allora rifondare la civiltà. Noi dobbiamo ritornare all'intelligenza che ci fa fondare la nostra esistenza su ciò che è invariabile, costante, assoluto. Da qui possiamo tirar fuori i principi universali di amore, bellezza, giustizia, libertà, armonia, senza i quali non è possibile la vita. Se ci fondiamo su questo, la nostra vita ha un valore, un senso, una bellezza, un incanto, una felicità. Altrimenti siamo dei poveri diavoli che, come dice Dante, inseguiamo uno straccio nell'antinferno, gli ignavi seguono uno straccio. Che cosa? Il piacere, il denaro e il potere. È uno straccio. È una vita intelligente seguire uno straccio? No. Noi dobbiamo seguire ciò che è assoluto. Questo è veramente degno di essere vissuto. Nella nostra storia, ricordato l'avvocato Luigi Bitonti, e nella nostra cultura risiedono insegnamenti impregnati di sapienza, conoscenza, amore, che sono stati tramandati dai grandi maestri della Magna Grecia. Basti ricordare Pitagora, Parmeide, Platone e Plutino. Vogliamo rilanciare un messaggio di speranza per un futuro, per la costruzione di un futuro migliore. E allora quale migliore occasione di parlare ancora del grande androblasta, il multiscienze Pitagora, ma di parlare anche di Platone, di Porfirio, di Plutino, perché è qui il sale della società europea e occidentale. E quindi noi dobbiamo anche sconfiggere questa situazione mentale di apatia, di noia, di rassegnazione, dove niente può accadere di positivo, se non magari venire dal fuori.